Simone Dionigi Trovare i pro e i contro, quello che è andato bene e quello che è andato male e poi migliorarmi perché comunque sono giovane, gioco da poco. Da quanto tempo giochi? Allora con questa squadra, con Sport Happenings gioco da 4 anni e comunque cerco sempre di mettermi alla prova. Ho la fortuna di avere una squadra, dei compagni, delle persone, degli allenatori che mi stanno molto vicino, che ci tengono molto, si vede che fanno le cose con passione. Di questo sono molto orgoglioso e mi reputo veramente fortunato, quindi benvenga per il futuro. Perfetto, quest'anno nell'ultimo periodo hai partecipato a qualche altro torneo, hai fatto qualche altra competizione? L'ultimo torneo l'ho fatto da Alessandria, è andato bene, ho superato anche un turno di doppio, anche un turno di singolo. Anche lì ho saputo, ho notato come negli ultimi tornei sto migliorando alcuni aspetti del mio gioco e sto anche lavorando tanto sulla parte mentale che ho capito che è fondamentale nel tennis. E quindi vediamo come succederà adesso qui. Va bene, quindi il mood è migliorare, andare avanti. Perfetto, ti ringraziamo e buona fortuna. Grazie.